Ciao a tutti e a tutte e bentornati nel covo The Mad Men. Io sono John e questo è il nostro solito CryptoEspresso d'inizio settimana, cioè l'appuntamento settimanale appunto, durante il quale andiamo a fare un po' di check up del mercato crypto, delle news, delle metri che vi dicendo, e vediamo un po' come sia la situazione. Prima di cominciare vi ricordo, come ogni volta, che in descrizione avete tutti i link delle cose che vi faccio vedere più quando ha senso eventuali approfondimenti. Sempre in descrizione trovate anche il link di accesso alla pagina dei nostri corsi, con i corsi un po' più avanzati a pagamento, ma anche con un corso gratuito di un'ora completamente a regalo, che abbiamo pensato per chi ne sa poco o niente del mondo crypto e vuole cominciare a capire certe logiche, quindi approfittatene perché appunto è un regalo. Ma vi ricordo anche e soprattutto che nulla di quello che vedrete in questi contenuti è un consiglio finanziario o è un consiglio di investimento. Mi raccomando, questo lo ripeto ogni volta perché fa bene a tutti, ma soprattutto a chi è appena prodotto sul canale, questi contenuti hanno un taglio esclusivamente informativo e divulgativo, quindi appunto mi raccomando ricordatevi sempre di utilizzare la vostra testa e di fare la vostra due diligence. Se poi i contenuti vi piacciono, volete darci una mano a portare avanti il progetto, volete restare sempre aggiornati, quindi in una situazione win-win, ricordatevi che iscriviti al canale, clicca sulla campanellina e un like al contenuto sono di grande aiuto per noi e per voi, ripeto, non il like ma le altre due cose, vi permettono di restare sul pezzo man mano che escono i contenuti. Detto questo andiamo subito nel vivo e partiamo con due notizie che riguardano entrambe gli Stati Uniti, ma da due ottiche abbastanza diverse. La prima è questa, presa il Bitcoin, che ci dice che in teoria, perché non esistono delle cifre ufficiali ma solo delle stime, il governo degli Stati Uniti possiederebbe più dell'1% di tutti i Bitcoin esistenti. Detta molto banalmente, anzi scusate, più che il governo in toto, il Dipartimento di Giustizia appunto degli Stati Uniti. Detta in altre parole, in parole più semplici, i vari episodi di confisca, sequestri, interventi appunto del governo degli Stati Uniti in caso di frode, di scamme e via dicendo, hanno fatto sì che nel corso degli ultimi anni il Dipartimento di Giustizia andasse ad accumulare BTC, appunto frutto di questi sequestri o dei suoi interventi comunque di natura legale e giuridica, per un totale sembra di circa 214 mila BTC. Per darvi una stima, considerate che MicroStrategy, che è considerato il, con la I maiuscola e anche la L maiuscola, diciamo il simbolo, la whale, il più grosso player attivo su BTC, detiene poco più della metà di questa cifra. Quindi gli Stati Uniti, da questo punto di vista, si configurano tecnicamente come una gigantesca whale. Ora, perché questa notizia è importante? Non tanto perché domani, odio, tutto può succedere, ma domani gli Stati Uniti entrano al mercato dicendo, salve, siamo una whale, cioè contribuiamo anche noi ad investire o non investire nel mercato BTC. Ma perché una cifra così ampia, così importante, che vi ripeto, teoricamente ad un certo punto dovrà essere almeno in buona parte rilasciata attraverso aste, attraverso altre operazioni, è comunque una cifra che, se non gestita con adeguata cautela, potrebbe causare degli scossoni importanti di mercato. Cioè, facendo un caso quasi impossibile, ripeto, tutto è possibile, ma molto improbabile, se domani gli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia, dovesse svegliarsi e dire, boh, vendo tutti i 214.000 BTC in un colpo sugli exchange, quindi attraverso il canale, diciamo, più tradizionale, ecco in blocco tra l'altro, ecco che lì si genererebbe con ogni probabilità un fenomeno di sell-off massiccio e un disastro a livello di mercati. Vi ripeto, ve lo dico solo come gioco mentale, perché un evento di questo tipo è, se non impossibile, perché l'impossibile non esiste, altamente improbabile. Cifre di questo tipo, anche se non si trattassi di una realtà istituzionale, comunque tendenzialmente non vengono trattate in blocco, non vengono trattate attraverso gli exchange, ma attraverso altri canali. Cioè, insomma, ci sono delle strategie per evitare che si vada a tirare un missile in faccia ai mercati. Però, vi ripeto, è comunque una questione, se non altro, da sapere, da tenere in considerazione, perché il teorico potere di intervento, se vogliamo vedere l'incattiva Fedi, di manipolazione dei mercati con una cifra del genere, il Dipartimento di Giustizia ce l'ha. Poi, vi ripeto, è più che altro per ricordarsi che esiste anche questa variabile e che a seconda delle strategie e delle politiche che verranno adottate potrebbe influire in un modo o nell'altro sulla situazione dei mercati, sulla volatilità, su magari specifici momenti del mercato. Non certo per fare complottismo, per dire, oh mio Dio, gli Stati Uniti manipoleranno il mercato, ma, ripeto, che è una variabile che c'è e quindi almeno sapere che esiste. Ecco, è importante, anche perché, vi ripeto, parliamo dell'1,1% di tutti i Bitcoin in circolazione. Seconda notizia, molto velocemente, questa realtà ve la cito e basta, poi andatevela a leggere, perché è una continuazione di quello che abbiamo discusso, mi sembra un paio di CryptoEspresso fa, ed è il discorso del possibile rischio di default degli Stati Uniti. Ne abbiamo già parlato, anche questo, per quanto gli eventi Black Swan esistano, le cose che o non succederanno mai e poi succedano, esistano, è un evento estremamente improbabile, perché la portata che avrebbe fa sì che si faccia tutto quello che è possibile per evitare di arrivarci, ma il rischio che gli Stati Uniti vadano in default per la prima volta e che questo quindi mette in discussione il ruolo non solo degli Stati Uniti, cioè degli Stati Uniti e ovviamente anche del dollaro, a livello di spina dorsale del sistema economico finanziario mondiale, è un rischio che per quanto remoto sta venendo sollevato di continuo anche da personalità piuttosto in vista. Io la volta scorsa avevo parlato della dichiarazione due volte fa della Yellen, qua ci sono altre citazioni che vengono riportate e di nuovo si dice che bisogna evitare tutti i costi di raggiungere il default perché sarebbe un disastro non solo per gli Stati Uniti ma a livello mondiale. Vi ripeto non entro nel merito perché ne abbiamo già parlato, leggetevelo anche questo sia per avere un po' di completezza di visione sull'argomento, sia perché, visto che parliamo spesso di contesto macroeconomico sono notizie che vale appena di conoscere. Ultima cosa, Bitcoin ha rotto un, o meglio Bitcoin, i possessori di Bitcoin hanno rotto un nuovo record perché ad oggi abbiamo più di un milione di addresses e di indirizzi che possedono un BTC o di più. Questo che cosa significa? Che si è raggiunto una soglia di un milione di possessori, ripeto, di addresses che è leggermente diverso, adesso vi spiego, di addresses che possedono almeno un Bitcoin e che quindi hanno messo in saccoccia quello che al momento attuale vale, cioè hanno in saccoccia almeno 27 mila dollari di BTC rispetto appunto al valore attuale. Dico che addresses e possessori non è la stessa cosa perché un address può essere associato, scusatemi, più addresses possono essere associati ad un unico possessore. Quindi magari una persona fisica possiede più addresses o un'istituzione o un fondo di investimento o quello che è possiede più addresses. Quindi dire che esistono un milione di individui che possiedono almeno un Bitcoin è sbagliato, perché non è sicuramente così, dire che esistono un milione di addresses associati ad un numero presumibilmente inferiore di o persone fisiche o enti e vi dicendo che li possiedono invece è corretto. Ed è un valore importante perché al di là del numero tondo è simbolico, perché significa che nel corso del ritracciamento degli ultimi mesi del bear market, dei vari crash che ci sono stati, un numero sempre maggiore di figure, di istituzioni, di entrambe, sono entrate all'interno del mercato i BTC, acquistandone anche una quantità che adesso vale discretamente, perché ripeto, parliamo di almeno un BTC. Questa cosa in prospettiva è importante perché ci dà un fondo, ci dà un segnale di maggior crescita del mercato e di maggior maturità del mercato, che in un'ottica di nuovo ciclo bull, che prima o poi in teoria dovrebbe arrivare, potrebbe, ripeto, costituire un buon bacino di base di partenza. Il solito discorso, più il mercato è ampio, più il mercato ha una serie di soggetti attivi e presenti, più quel mercato comincia ad accumulare capitale e soggetti che detengono quel capitale, più la sua maturità e la sua solidità e anche la sua resilienza, in teoria, ripeto, con tutte le eccezioni del caso, vanno a crescere. Di conseguenza vedere che BTC ad oggi ha appunto un milione di addresses attivi con più di un milione di addresses con almeno un BTC al proprio interno, è un segnale che ci dice che nel, almeno per quella che è la fotografia attuale, nel corso degli ultimi mesi è avvenuta una forma, una procedura, scusatemi, di accumulo e di crescita della base del mercato che ad oggi dà comunque una base più ampia di quanto non fosse in passato. Quindi comunque è una cosa interessante. Tenete conto che in questo vengono considerati, cioè che a questo vanno, in costruggiamento vanno considerati anche i fondi detenuti dell'exchange, questa è una metrica che vi dice il balance dell'exchange, vedete che siamo circa a un milione e 89 e circa, e quei circa 3 milioni se non ricordo male, invece completamente persi che sono legati a BTC dei quali si sono perse, a wallet dei quali si sono perse le chiavi di accesso, a fenomeni legati a magari a scam o appunto di nuovo Bitcoin per il quale non c'è più accesso, a fenomeni bar, insomma tutta una serie di alti meccanismi che fanno sì che ci sia poi un certo tesoretto piuttosto ampio che è completamente perso, in teoria per sempre. E questo è un'altra grafica, ma poi vi linko anche l'articolo che ve la riporta e ve la spiega, questo è tirato fuori da Glassnode ed è un articolo, se non ricordo male, di Cointelagraph che vi dà invece la crescita degli addresses appunto con bilancio maggiore di 1. Chiudiamo in velocità con Fear and Grind Index che è fermo a 50, siamo sempre neutrali, qua non ci aggiunge nulla di più rispetto a quello che ci siamo detti sul fatto che il mercato fosse un'osservazione, quindi vado abbastanza veloce, sapete qua entro nel merito se c'è qualcosa di specifico a segnalare. Come gainers and losers con le solite crypto bubbles vedete che la situazione è abbastanza verde, quindi ci sono stati vari gainers come qua CFX che ha fatto un 12%, vedete qualcosa con cifre sopra il 10% ma diciamo che c'è relativamente poca cosa, c'è un verde generale ma abbastanza contenuto come numeri e poi abbiamo Clay e soprattutto Pepe, abbiamo già parlato di questa meme coin che invece sono in ritracciamento ma vuol dire Pepe ha fatto dei numeri allucinanti e quindi insomma che vado a prendere un po' di correzione ci sta. Poi vabbè sapete che io non amo le meme coin quindi passo anche abbastanza velocemente. Sulla dominance, scusatemi, sulla market cap nulla da aggiungere, abbiamo fatto quello che in realtà sembra un head and shoulders a tutti gli effetti ma in realtà ci stiamo appoggiando su 1.86 quindi qui vale il ragionamento che abbiamo fatto nel crypto espresso scorso e anche sulla dominance siamo in fase di lateralizzazione. Abbiamo rotto qua, ne abbiamo già parlato, ci siamo riappoggiati, abbiamo rirotto e siamo tornati in questo range leggermente più contenuto ma la dominance di BTC resta molto alta dopo che questa leg up ci ha portato in questa fascia piuttosto alta di dominance. Chiudo con una cosa al volo di analisi tecnica perché sapete questo è campo e materia di mica quindi io faccio semplicemente un check up per competenza ma poi la parte di analisi approfondita la lascio a lui. Sul daily siamo in una situazione in cui dopo una serie di candele rosse di ritracciamento che ci hanno riportato a contatto con la fascia dei 25 Bitcoin è andato a ripigliarsi e attualmente sul giornaliero perlomeno stiamo andando a ritoccare con le due Emma più veloci quindi la 12, scusate con le due Emma la 12 e la 50 perché in realtà la 26 è più alta che ci stanno facendo da tappo a livello di resistenza. Ora questa situazione qua di correzione, rimbalzo e correzione di nuovo ci ha sia riportato a contatto con i 25 con questo spike abbastanza violento ma in realtà la fascia nella quale stiamo continuando a muoverci è sempre la stessa nella quale stiamo oscillando da marzo quindi la fascia compresa tra i 26 e 5 e 27 circa vedete questa qua 26 e 7 e la fascia simbolica tecnica psicologica bla 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 ne abbiamo parlato un milione di volte invece dei 30 quindi questo tipo di movimenti finché si configurano come movimenti violenti ma molto puntuali non vanno di fatto ad invalidare il macro trend che appunto quello del quello di essere all'interno di lateralizzare all'interno di questa fascia questo movimento tra l'altro è interessante anche da un punto di vista legato ad un raggiamento che facciamo di solito che è quello dell'essere del non essere tendenzialmente troppo precisini e troppo chirurgici perché il fatto che si stesse andando probabilmente a ritoccare i 25 cosa che tra l'altro potrebbe risuccedere non è che sia una prospettiva passata è ormai chiusa ma il fatto che si potesse andare a ritoccare i 25 era stato chiamato da molti indicato da molti ed era all'interno di molte analisi tecniche che potete anche trovare online e il fatto che poi il prezzo sia effettivamente andato a ritracciare ma si sia fermato molto più in alto cioè molto più in alto un 500 600 dollari più in alto è un classico meccanismo in cui nel momento in cui un certo valore viene chiamato da tutti o quasi viene dato per scontato ecco che chissà come chi tendenzialmente si muove per cercare di sfruttare l'ovvio ma senza cadere nell'ovvio si sposta leggermente più sopra leggermente più sotto a seconda dei casi e quindi fa sì che il prezzo in realtà poi di conseguenza vada più a toccare quelli valori in modo esatto ma vada ad oscillare nelle fasce immediatamente sopra o immediatamente sotto questo è un po' una delle solite una delle varie regole strategiche che spesso vengono insegnate sul fatto che a essere top chirurgici ma che utilizzo anche in primis per essere molto chiari che a essere top chirurgici e top precisi alle volte sia controproducente come in guess un po' più sporchi proprio perché il valore esatto in quanto molto ovvio molto esatto tendenzialmente o non viene toccato o viene toccato quando non viene considerato così ovvio da toccare insomma tutto questo giro per dirvi che qui i 25 li abbiamo effettivamente toccati ma non 25 giusti leggermente più sopra e che quindi chi è andato molto preciso sul 25 non ha visto i propri ordini non scattare perché ci siamo affermati appunto quei 5 600 dollari più sopra al di là di questo che vi ripeto è un trick come un altro ma vi ripeto poi molto legato alle strategie di ciascuno a come funzionano i mercati in generale ai meccanismi psicologici che ci stanno dietro ma quello che è importante dal punto di vista di technical analysis è appunto che finché avvengono questi movimenti possono essere sicuramente movimenti interessanti se qualcuno ha una strategia che punta ad entrare in questo tipo di correzioni ma allo stesso tempo non vanno ad invalidare la macrostruttura ora noi abbiamo comunque la 200 che si sta avvicinando lentamente ovviamente e che sta andando a diciamo a riconvalidare il supporto ai 25 abbiamo il potenziale supporto ai 25 abbiamo appunto queste sopra che ci fanno da tappo e se andiamo sul settimanale che è l'altra cosa l'altro diciamo trucco l'altra buona pratica che vale la pena di ricordarsi sempre cioè di mettere le cose in prospettiva vediamo che questa stessa struttura ha anche un altro livello importante scusate che purtroppo coinigi non mi sta aiutando in questo momento ve lo zoomo un attimo abbiamo anche un'altra cosa che si può considerare e cioè il fatto che il settimanale ad oggi è essendo appena cominciata la settimana è ancora incastrato in questa fascia che è una fascia che è stata prima di resistenza poi è diventata di supporto ma che sarebbe bene vedere convalidata alla fine di questa settimana per essere sicuri di non tornare nel range sotto diciamo che se questa settimana dovesse chiudersi con una weekly debole o una weekly addirittura in correzione al di sotto di questa fascia dei 26,7 circa e della M12 ecco che lì una possibilità, una probabilità di ulteriore tracciamento diventerebbe non ovviamente sicura perché non c'è niente di sicuro nessuna sfada di cristallo ma più probabile se invece dovessimo chiudere al di sopra ecco che questo range potrebbe essere convalidato almeno nel breve termine anche sul time frame settimanale potrebbe essere una cosa interessante basta ragazzi ho finito vi ricordo una volta di più perché è fondamentale che anche quando facciamo questa parte di analisi tecnica al di là delle metriche, al di là delle news si tratta esclusivamente di riflessioni a voce alta pensate per darvi qualche elemento in più che poi voi potete prendere come no e inserire nella vostra due diligence ma che ripeto è la vostra due diligence quindi non sono consigli finanziari, non sono consigli di investimento e che è anche un bel modo e qua vi invito poi magari a sentirci nei commenti per avviare una discussione e confrontare delle o in community e confrontare delle posizioni diverse perché è sempre molto figo proprio per abituarsi a pensare in una certa ottica capire cosa ne pensano gli altri anche se magari, anzi, soprattutto sono strategie molto diverse dalle nostre e perché quello poi torna tutto indietro e ci permette, scusatemi, magari di fare nella nostra due diligence dei ragionamenti con delle posizioni diverse dalle nostre e quindi sviluppare in questo modo anche una forma di pensiero controintuitivo e di uscita dei nostri schemi che poi nella strategia di ciascuno tecnicamente potrebbe tornare molto utile basta, non vi aggiungo altro ci vediamo prestissimo buona settimana, buona continuazione a presto, ciao a presto